La musica mi ha insegnato a vivere e ad amare la vita di nuovo. Sono Patrice Argaini, in arte polvere. Sono una musicista originaria della Romania. Mi sono trasferita a Milano per fare l'artista di strada. Sono arrivata in Italia che avevo due anni, perché appunto i miei genitori mi hanno adottata. E sono cresciuta felicemente nelle Marche con la famiglia più bella del mondo. Mi sono laureata in filosofia, però purtroppo è stato un periodo molto pesante. Per la mia vita ero molto triste, soffrivo di depressione. Sapevo di dover studiare, sapevo di dover stare nei tempi universitari, sapevo di dover soddisfare anche in un certo senso questa aspettativa sociale e mi sentivo soffocare. Non avevo più voglia di vivere. Vedi le persone intorno a te volerti bene, tentare di fare qualcosa per aiutarti, per tirarti fuori da quel buio, senza riuscirci. Lo sforzo che si può fare è quello di ascoltare appunto le persone intorno a noi, sentire queste voci anche se sembrano lontane anni luce, e fare qualcosa. Ho iniziato semplicemente a suonare ed è andata molto bene. In realtà ho provato delle sensazioni incredibili. Suonare in strada in particolar modo mi ha dato una motivazione per essere felice, per dire ok, mi faccio forza, mi alzo, esco, sorrido e coltivo qualcosa. Quando vivi un percorso del genere sai da dove sei partito. Sentirsi arrivati è anche una cosa piccolissima, è una sensazione molto bella. Sono molto felice.